Un momento unico in un luogo simbolo di sofferenza ma anche di ripartenza, con ogni volta qualcosa di nuovo da raccontare. Parole e movimento sono termini che appartengono al linguaggio del jazz, che la grande comunità del jazz italiano ha voluto condividere ancora una volta con coloro che oggi vengono sentiti come amici di una grande famiglia, come ha ribadito il maestro Paolo Fresu, presidente della Federazione Nazionale del Jazz Italiano. Torna così il grande jazz italiano per le terre del sisma, il 4 e il 5 settembre prossimi, con 150 musicisti, 10 palchi, un'edizione che rafforza l'impegno per le terre del cratere. Il coordinamento operativo passa dall'associazione Jazz all'Aquila, che ne raccoglie il testimone. Un evento promosso dal Ministero della Cultura, da Comune, SIAE, Nuove Maie, Fondazione Carispac, Fondazione Maxi e altri partner. Le due giornate aquilane sono piene di concerti, in diverse location, ma non solo, perché il jazz si intreccerà con altre arti e altri linguaggi. Ci sarà come sempre l'omaggio alla Casa dello Studente. Il tema è l'Aquila, balla con le arti. La direzione artistica è a tre quest'anno. Rita Marco Tulli, Paolo Damiani e Alessandro Federigo, con l'apertura affidata al grande danzatore e coreografo di fama mondiale, Virgilio Sieni, presente in conferenza stampa, che proporrà uno spettacolo incentrato sul dialogo con i cittadini. Quest'anno, forse per la prima volta, c'è un reale incontro del jazz con altri linguaggi artistici, quindi la danza in particolare con Virgilio Sieni, con Israele Varela, che accompagnerà una danzatrice spagnola meravigliosa. L'incontro della musica col video, col film, in particolare penso al film di Raffaello Fusaro, Un ponte del nostro tempo, che per noi è la metafora della ricostruzione dell'Aquila. La città si riempirà di musiche e parole, con spettacoli dal pomeriggio fino alla sera, ma anche di appuntamenti per i più piccoli. In questi anni si è consolidato il rapporto con le scuole e con la Dante Alighieri, in particolare con il conservatorio. L'organizzazione ha previsto un piano B con altre location in caso di pioggia. Sarà una manifestazione anche questa all'insegna della sicurezza. Abbiamo un momento in cui richiameremo molta gente, ma naturalmente lo faremo con tutte le necessarie, anzi indispensabili, condizioni di sicurezza. Abbiamo già concordato con l'azienda sanitaria locale, con la Croce Rossa italiana e con l'azienda farmaceutica municipalizzata la prosecuzione delle attività di monitoraggio e di prevenzione attraverso il mantenimento del punto di vaccinazione in Piazza Duomo e attraverso la somministrazione di tamponi antigenici gratuiti a tutti coloro che non sono in possesso del Green Pass.